L'intervento di apertura vano in una parete in muratura portante solitamente si accompagna alla messa in opera del telaio di cerchiatura. In questo video vedremo come ottenere il legame forza spostamento del telaio di cerchiatura mediante l'analisi statica non lineare per valutare la variazione di rigidezza e resistenza della parete nello stato ante operam e post operam. Per non perderti la pubblicazione di nuovi video iscriviti al canale youtube, alla newsletter del blog e alla pagina facebook dai link che trovi nella descrizione al video. La resistenza e il legame forza spostamento del telaio di cerchiatura sottoposto ad azioni orizzontali vanno valutati eseguendo un'analisi statica non lineare con redistribuzione dei momenti che tiene conto della progressiva formazione delle cerniere plastiche all'aumentare dello spostamento laterale del telaio. Tale tipologia di analisi è implementata nell'acqua bolli scaricabile dal link che trovi nella descrizione al video. La forma del legame taglio spostamento del telaio di cerchiatura dipende dall'ordine di formazione delle cerniere plastiche nel traverso e nei montanti. In corrispondenza della formazione delle cerniere plastiche si avrà una riduzione di rigidezza nel legame forza spostamento. A seconda della combinazione dei parametri di rigidezza e resistenza di montanti e traverso sotto l'ipotesi di telaio incastrato alla base potrà verificarsi uno dei due seguenti scenari. Formazione delle cerniere plastiche prima all'estremità del traverso e poi alla base dei montanti. Formazione delle cerniere plastiche prima alla base dei montanti e poi all'estremità del traverso. L'ordine di formazione delle cerniere plastiche all'aumentare dello spostamento laterale delta della sommità del telaio dipende dalla rigidezza relativa fra traverso e montante e dall'entità dei momenti resistenti di questi elementi strutturali. Dalla rigidezza relativa fra traverso e montanti dipende la forma del diagramma del momento flettente. Possiamo rendercene conto considerando i due seguenti casi limite. Traverso infinitamente rigido, in questo caso il diagramma del momento nei montanti sarà di tipo a farfalla con pari valore alla testa e al piede, attraverso infinitamente riformabile. In questo caso il diagramma del momento nei montanti sarà di tipo triangolare con valore massimo alla base e nullo alla testa. Nei casi intermedi il punto di nullo del diagramma del momento nei montanti cadrà nella metà superiore dell'asse. Dalla forma del diagramma del momento flettente dipende in quale punto si raggiungerà prima il momento di prima plasticizzazione di montanti e nel traverso. A parità di momento di plasticizzazione di montanti e traverso, nel caso di traverso molto deformabile, sformeranno prima le cerniere plastiche alla base dei montanti e poi all'estremità del traverso. L'ordine di formazione delle cerniere plastiche dipenderà anche dall'entità dei momenti resistenti di montanti e traverso. Sotto l'ipotesi di traverso infinitamente rigido e momento resistente del traverso inferiore al momento resistente dei montanti, le cerniere plastiche si formeranno prima all'estremità del traverso e poi alla base dei montanti. Per progettare e verificare l'intervento di apertura di un vano in una parete portante e il telaio di cerchiatura, puoi utilizzare l'applicazione Walli, il tool per l'analisi dei pannelli esistenti in muratura portante. In Walli troverai un modulo dedicato all'intervento di apertura di un vano in una parete portante. Potrai selezionare la tipologia di muratura esistente applicando i coefficienti migliorativi previsti dalla normativa. Potrai inserire le dimensioni geometriche della parete e delle aperture nello stato di fatto e di progetto. Visualizzerai l'esito di tutte le verifiche nello stato ante operam, post operam e in presenza del telaio di cerchiatura. Potrai visualizzare il diagramma tagli spostamento dell'intera parete nello stato di fatto e nello stato di progetto e stampare una dettagliata relazione di calcolo in formato A4 con un layout professionale. Trovi il link per il download nella descrizione del video. Grazie per aver guardato questo video. Per restare aggiornato sulla pubblicazione di nuovi contenuti iscriviti al canale youtube alla newsletter del blog o clicca sul tasto mi piace della pagina facebook dai link che trovi nella descrizione al video. Ciao e al prossimo episodio! Ciao! 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 Ciao!